Aveva pure coniato una sua criptovaluta per tessere il fila di operazioni finanziarie sconfinate nella frode, compresa quella di proporre investimenti internazionali per progetti industriali ecologici di fatto inesistenti. E' questo il risultato dell'operazione Green Scam della Guardia di Finanza di Pesaro, che ha portato alla perquisizione di un pesarese di 49 anni, leader italiano di una organizzazione transnazionale che, in assenza delle previste abilitazioni per operare sui mercati finanziari italiani, era dedica all'offerta al pubblico di tipologie di investimenti che hanno visto protagonista anche una sedicente criptovaluta cognata e denominata CSR, potenzialmente in frode degli investitori. Non solo, al 49enne è stato anche sequestrato tutto il materiale informatico e documentale, oscurato il sito web e il Tribunale di Pesaro ha pure notificato il divieto di un anno ad esercitare la professione. Questo dunque il risultato di un'indagine lunga tre anni in cui le fiamme gialle hanno individuato un'ampia attività illecita di collocamento di investimenti finanziari promossi da varie società estere facenti capo ad uno stesso gruppo. Quello in cui il 49enne si avvaleva di una rete di collaboratori subordinati di cui si professava leader e responsabile italiano promuovendo tramite social network e siti web dedicati servizi finanziari e attività di investimento in regime di abusivismo finanziario. Reato che prevede fino ad otto anni di reclusione. Le vittime delle frodi con la promessa di ingenti profitti futuri anche in criptovaluta sarebbero stati coinvolti nel finanziamento di un progetto industriale ecologico verosimilmente inesistente. L'organizzazione attraverso società di comodo create ad hoc con sedi dichiarate a Bangkok e Amsterdam ma anche questi inesistenti sosteneva infatti la realizzazione di un avveniristico progetto industriale ecologico finalizzato a trasformare il rifiuto plastico in biocarburante con la promessa di ingenti profitti ingannando gli investitori e dall'altro coinvolgendoli in un'apparente nobile causa di green economy. Le investigazioni hanno dunque fatto emergere che gli investimenti offerti sono stati sottoscritti da centinaia di clienti in Italia e all'estero che hanno pagato attraverso numerosi e consistenti bonifici bancari su conti correnti in Estonia e in Olanda gestiti tutti dall'organizzazione.